Un saluto a tutti, nel video di oggi parleremo di variazioni cromatica, ovvero un aspetto fondamentale per cercare di migliorare immagini piatte e noiose, almeno sotto il profilo dei colori, come quella che stiamo vedendo. Prima di passare allo studio della variazione cromatica e all'introduzione di uno strumento che si chiama Man from Mars di De Margulis, cerchiamo di dare una definizione oggettiva a cosa possiamo chiamare variazione cromatica e per farlo utilizziamo delle immagini su cui avete già lavorato voi. Questo è lo studio su cui abbiamo lavorato qualche settimana fa. Questa è la versione originale che presentava due illuminanti differenti tra la parte esterna e la parte interna del Colosseo. Questa è la versione di Andrea Cesarini che, almeno a mio avviso, presenta il colore più naturale del Colosseo, se vogliamo il colore più giusto, e è riuscito a restituirlo Andrea in tutta la sua struttura, addirittura sia all'interno che all'esterno. Di contro, come interpretazione nettamente all'opposto, c'è la versione di Marco Livotto, che è questa qui, che manteneva la differenza tra i due illuminanti e introduceva un aspetto che ora definiremo in modo un po' più oggettivo, questa variazione di colore in alcune zone. Per capire meglio di cosa parliamo, proviamo a mettere la versione di Marco in modalità colore. Questa è la versione di Andrea e questa è la versione di Marco. Le zone che vanno esaminate più da vicino sono esattamente queste. Andrea e Marco. Ora, con tanti discorsi che abbiamo già fatto, valori come meno 7 e meno 4 su un oggetto che molto probabilmente ha tra i 5 e i 10 punti, abbiamo detto, di B positiva, potrebbe essere considerato un errore. Non è, a mio avviso, almeno un errore quando questa cosa, vedete qui abbiamo sempre Marco 7 e 7, quando questa cosa avviene in determinate zone che sono scelte appunto per creare questa variazione, cioè per dare in alcune zone una differenza che possa far risaltare altre zone adiacenti. Naturalmente queste sono tecniche che possono anche essere piuttosto pericolose perché bisogna sempre contestualmente tenere d'occhio quanto stiamo aggiungendo, stiamo introducendo questa variazione e quanto stiamo scardinando i valori oggettivi dell'immagine che dovremo sempre cercare di rispettare. Questo però era un esempio decisamente lampante, riporto l'immagine di Marco in normale e direi che le immagini funzionavano tutte e due e sicuramente erano entrambi migliori dell'originale. Passiamo invece adesso a una definizione un po' più oggettiva e vediamo cos'è il Man from Mars. Ora, guardando questa immagine, è un originale esportato direttamente da Lightroom, se io vi chiedessi qual è il problema oggettivo di questa immagine, la risposta potrebbe tranquillamente essere che il soggetto, che probabilmente è quest'albero dai toni rossi al centro, risulta praticamente invisibile in tutto questo marasma verde. Migliorare il rosso delle foglie di quest'albero però non equivale ad aumentare la variazione cromatica di questa immagine, bisogna sempre stare molto attenti su questa definizione, mentre invece differenziare alcune zone del prato equivale esattamente a questa definizione che stiamo per dare. Per cui, migliorare il colore di quest'albero, possiamo definirlo semplicemente aumentare la saturazione e renderlo più visibile, cosa che può essere fatta in due modi differenti, aumentando la saturazione di questi rossi o diminuendo la saturazione di questi verdi. Quindi, differenziare alcune zone di questo prato che risulta completamente piatto, equivale ad aumentare la variazione cromatica dell'immagine. Proviamo a lavorare su entrambi questi aspetti. Innanzitutto, sempre in modo barbaro, prendiamo semplicemente il rosso di queste foglie, ne aumentiamo la saturazione, ricordiamoci sempre che questo è uno strumento che ha dei limiti oggettivi molto importanti, ma vediamo che un risultato in pochi secondi si riesce ad ottenere. Questa è un'immagine che sicuramente non stamperei in questo modo, ma per essere visualizzata in questo modo su internet, qualcosa di meno, potrebbe essere anche sufficiente. Ricordiamo anche che ci sono tantissimi modi per aumentare la saturazione, ma che più veloci di questo, probabilmente non ce ne sono. Cosa vuol dire, invece, aumentare la differenza tra il rosso e questo verde? Dunque, dato che questo rosso ha naturalmente delle componenti positive nell'A, cioè nel magenta, quello che possiamo fare è, dato che siamo già in lab, è un set di curve in cui, nel canale della A, andiamo a vedere, seguite qui in quest'area qui, il verde è in queste zone qui, quindi clicco, il magenta è in questa zona qui, quindi clicco, e ci ricordiamo sempre che la solita definizione che dà sempre Margulis, per aumentare il contrasto in una o più aree, bisogna semplicemente rendere quella parte della curva più verticale, per cui quello che posso fare è questo. E in effetti, lo scopo che cercavo è stato ottenuto, cioè ho aumentato la variazione, la differenza, scusate, tra questi toni caldi e questi toni freddi. Questo naturalmente lascia un po' a desiderare come risultato, perché ho ottenuto un verde, direi, eccessivo, ma è vero anche che abbiamo curvato un solo canale e ce n'è un secondo. Stesso discorso, clicco sul verde, clicco nella parte più calda di questo albero rosso, e dopodiché vado a giocare con i due punti. Questo è, a differenza del canale A, il verde, cioè il verde della vegetazione, questa volta è il punto che sta qui sopra, mentre invece il rosso è un po' più sotto, questo perché, ricordiamolo, anche se non è una legge matematica, ma in questo caso, ricordando che il valore della B, della vegetazione, è tra 1,5 e 2,5 volte in valore assoluto dell'A, questa volta ce lo ritroviamo sopra. Per cui, dato che abbiamo detto che è un verde eccessivo, il giallo deve essere aumentato, in questo modo, e automaticamente si sta incrementando ancora di più la variazione tra questi due colori. Il risultato, facciamo vedere a schermo pieno, è abbastanza evidente, è anche evidentemente esagerato, ma abbiamo tantissimi modi per ridurlo, da cambiare l'opacità, a utilizzare il blendif, a creare una maschera, eccetera. Ma quello che mi interessa farvi notare è che, nonostante abbiamo risolto il problema del fatto che quest'albero si notava poco, il problema in realtà è nel prato, è il prato che risulta completamente identico a se stesso, è completamente una massa senza un minimo di variazione cromatica, abbiamo solamente variazione nella luminosità, a questo possiamo andare a vedere i canali come appaiono, questa è la L, questa è la A e questa è la B, completamente identico. Qual è il modo per risolvere un'immagine del genere che può risultare estremamente noiosa? Il modo migliore è aumentare appunto la variazione cromatica. Tra tutti gli strumenti che possiamo utilizzare, il più veloce, il più efficiente soprattutto, è il Man From Mars di De Margulis. Io ve lo farò vedere nel modo più veloce possibile utilizzando un pannello creato da Giuliana Abbiati e De Margulis e tradotto in italiano da Giuliana e Alessandro Bernardi. Il modo migliore è andare a selezionare l'area dove vogliamo avere questa variazione cromatica, io ad esempio seleziono quest'area qui, che è semplicemente prato, e vado a chiedere un Man From Mars. Con un semplicissimo clic, ci vuole un secondo, e questo è il risultato. Allora, disattivo, anzi, prima lo metto al 100%, questo è il risultato. Direi che è evidente la qualità che abbiamo ottenuto, disattivo un secondo, altri livelli che non ci interessano, questo è il prima e questo è il dopo. Questo è il prima e questo è il dopo. Ci sono oggetti che ora appaiono gialli, magenta e di altri colori, anche probabilmente blu, non sto dicendo che siano tutti colori coerenti con quello che ci interessa, quello che ci interessa è che l'effetto che riusciamo a restituire alla fine, vedete, prima e dopo, è una variazione che prima semplicemente non esisteva. Questo al 100% naturalmente è esagerato, secondo le specifiche di The Margulis, di solito, credo venga attivato al 30%, quindi un effetto molto leggero. Io direi che in un'immagine come questa, anche il 60% è ancora compatibile. Viene automaticamente mascherato e il modo in cui viene creata questa maschera è un insieme di passaggi che utilizzano anche il comando Equalizza, che è un comando abbastanza interessante che vi consiglio di studiare. e questo è il risultato. Vedete che il miglioramento non è eccessivo rispetto all'area dei rossi che ci interessano, ma abbiamo anche visto quanto è facile aumentare la saturazione selettiva di un solo colore. Quello che invece è estremamente più complesso è creare una variazione in quest'area. Quello che veniva richiesto nello studio di questa settimana era proprio l'introduzione di un aspetto come questo, di una variazione cromatica. Quindi andiamo a vedere che cosa avete consegnato. Grazie a tutti.